All'alba di domenica 7 maggio i militari della compagnia della guardia di finanza di Enna e gli agenti della polizia di stato ed in particolare della squadra mobile con la collaborazione del commissariato di pubblica sicurezza di piazza Arverine e con l'ausilio degli agenti dei commissariati di pubblica sicurezza di Leonforte e Nicosia nonché del commissariato di pubblica sicurezza di Viscemi e degli altri reparti del comando provinciale della guardia di finanza di Enna hanno arrestato 8 persone accusate di associazione delinquere per l'organizzazione e la promozione di competizioni non autorizzate tra cavalli aggravate dalla presenza di minori con annesse scommesse inoltre per le stesse ipotesi di reato seppur fuori dal contesto associativo sono stati denunciati in stato di libertà altri 13 soggetti uno dei quali minorenne nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla procura della repubblica presso il tribunale di Enna gli uomini della squadra mobile unitamente ai militari della compagnia della guardia di finanza di Enna collaborati dai colleghi degli altri uffici della polizia e della guardia di finanza intervenivano nella strada statale 117 bis tra piazza Armerina e Mazzarino dove nelle prime ore del giorno si sarebbe svolta una competizione non autorizzata ed in particolare una gara di velocità di cavalli con calesse le diverse pattuglie dislocate in maniera da eludire eventuali ricognitori tra gli organizzatori che potessero vanificare l'effetto sorpresa monitoravano il percorso del probabile circuito di gara che all'albeggiare si affollava di numerosi veicoli ed in particolare di mezzi a due ruote con il chiaro intento di battere tutta la zona per prevenire eventuali azioni di polizia proprio nel momento in cui sembrava stesse iniziando la competizione i veicoli presenti iniziavano a disperdersi dai luoghi come se temessero la presenza delle forze dell'ordine tuttavia nonostante gli organizzatori e partecipanti alla gara tentassero di dileguarsi lungo le due direzioni piazza Armerina a nord e Gela a sud gli equipaggi impiegati procedevano a bloccare le vie di fuga riuscendo così ad intercettare numerose persone e veicoli tra cui il furgone con a bordo uno dei cavalli ed il fantino partecipanti alla gara ciò nonostante alcune vedette ed un secondo furgone che trasportava l'altro cavallo impegnato nella competizione riuscivano a superare i presidi predisposti dalle forze dell'ordine il furgone di uno scudere con a bordo due vedette venivano però fermati dal personale del vicino commissariato di pubblica e sicurezza di Niscemi opportunamente allertato lungo la strada stradale 117 bis gli agenti pertanto provvedevano a verificare i ruoli dei soggetti che si accingevano ad effettuare la gara e dall'esito delle immediate indagini provvedevano a trarre in arresto il 41enne piazzese Salvatore Gagliano organizzatore e promotore della gara nonché Fantino il proprietario di uno dei cavalli impiegati nella gara il 52enne Calatino Andrea Criscione organizzatore e promotore delle gare nonché Fantino i fratelli gelesi Salvatore Puccio 59enne con pregiudizi di polizia ed Emanuele Puccio 65enne organizzatori e promotori delle gare con funzione di raccolta delle scommesse il 46enne gelese Rosario Cassarino altro Fantino e proprietario del secondo cavallo il 40enne Mario Novello di Gran Michele Maniscalco che recava con sé gli altrezzi per Ferrari Cavalli il 20enne piazzese Calogero Abbati collaboratore del Gagliano e il 38enne gelese Giuseppe Emanuele coordinatore delle vedette impiegate nell'organizzazione della gara nonché scommettitore i cavalli verosimilmente preparati per la gara con sostanze dopanti venivano sottoposti a cura di un medico veterinario dell'aspe di Enna alle opportune analisi e successivamente attraverso anche la collaborazione dei poliziotti del reparto a cavallo di Catania condotti presso un maneggio per affidarli in giudiziale custodia inoltre sono stati denunciati in stato di libertà 13 persone fra esse 9 sono stati trovati in possesso complessivamente di oltre 4.000 euro da destinare alla scommessa e su competizione gli operatori altresi sequestravano ai partecipanti 11 telefoni dai quali emergevano ulteriori elementi probatori in quanto si riuscivano ad eslaborare diverse conversazioni di messaggistica dalle quali si evinceva il livello organizzativo della competizione nonché filmati di precedenti gare clandestine di cavalli svolti in altri territori della regione siciliana a cui avevano partecipato anche coloro che nell'occasione venivano arrestati e denunciati nel corso delle perquisizioni domiciliari e precisamente in quella effettuata nell'abitazione dei frelli Puccio a Gela gli operatori rinvenivano farmaci veterinari non corredati dalle necessarie prescrizioni mediche in violazione della normativa terapeutica veterinaria nel corso della complessa attività di polizia giudiziaria foto o video documentata dagli operatori del gabinetto provinciale di polizia scientifica di Enna sono state effettuate decine di altre identificazioni e perquisizioni sul posto a carico dei soggetti presenti nei luoghi che attendevano lo svolgersi della gara gli arrestati dopo gli adempimenti di rito venivano collocati agli arresti domiciliari come disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Enna che ha coordinato brillantemente le indagini grazie a tutti